Dopo una settimana di meeting Nobel Laureates, devo dire che vedere 25 Nobel, 500 giovani ricercatori come me e tantissima altra gente, sono rimasta veramente soddisfatta. Il sentimento che porto a casa con me è sicuramente l'entusiasmo. Questa piccola cittadina si è trasformata in un villaggio multietnico, ho avuto la possibilità di parlare con giovani ricercatori indiani, giapponesi, tedeschi, inglesi, spagnoli, eccetera. Dopo una settimana a stretto contatto con i premi Nobel le mie emozioni sono fortemente cambiate. Devo essere sincero, io sono arrivato qua un po' compiaciuto del fatto di sapere di essere che è stato scelto su 20.000 persone, cioè di essere qua uno dei 570 giovani ricercatori, quindi sembrava quasi un punto di arrivo. Poi invece parlando con i premi Nobel questo si è trasformato in un punto di partenza. Mi porto a casa la passione dei Nobel che abbiamo incontrato. Devo dire non di tutti, ma della maggior parte. La passione per la ricerca, la passione per la scienza e soprattutto in primis la passione per la natura. La maggior parte di loro non sono solo grandi ricercatori, ma sono persone interessate alla società, alla medicina nel senso di salute globale, alle problematiche dell'ambiente. Quindi credo che noi giovani ricercatori abbiamo anche questo ruolo. E infatti uno degli insegnamenti più grandi è che non basta diventare bravi ricercatori per essere persone di valore e scienziati di valore. Sono rimasta profondamente colpita dagli insegnamenti di vita che ci ha offerto Fischer, Arzillo 91enne nonché premio Nobel. 1. Meglio avere colleghi e amici che solo colleghi, perché gli amici restano per tutta la vita. 2. Alcune grandi domande hanno bisogno di anni per essere risolte e certe volte non basta una vita per risolverle, ma mai smettere di cercare la soluzione alle domande risolte, mai dimenticarsele e mai smettere di osservare, perché la scienza richiama altra scienza. Quello che forse mi è piaciuto più di tutti è aver scoperto in me stessa un'evoluzione. Sono partita un pochino in soggezione, un pochino pendevo dalle labbra dei Nobel che ci raccontavano la loro vita, che ci raccontavano il loro modo di vedere la scienza e di vivere la scienza. Poi piano piano però ho cominciato a provare un pochino anche di senso critico nei loro confronti. Qualcuno di loro mi è proprio rimasto anche un po' antipatico a dir la verità e questo però mi è piaciuto perché ho cominciato ad elaborare un mio modo di assumere, di apprendere quello che loro mi dicevano, rielaborarlo anche in senso critico e questo credo che fosse esattamente lo scopo di tutti loro, quello di darci un mezzo per poter interpretare la scienza e anche la nostra vita privata in relazione alla scienza. Grazie.